Buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta, staremo insieme fino alle 19, nella seconda parte parleremo con Paolo Dalfovo, vicepresidente dell'Armonia di un'iniziativa che riguarda il premio Aveninchi, nella prima parte siamo invece in compagnia del dottor Lorenzo Pizzuti dell'Università di Trieste, grazie dottore per essere, possiamo darci del tu francamente? Sì, assolutamente. Anche così è il vincitore di FameLab 2016 a livello nazionale, secondo classificato a FameLab 2016 a livello triestino, che è una storia un pochettino strana per dire la verità, ma intanto capita, con il quale parliamo appunto di FameLab, sapete che è questa iniziativa molto, magari per noi anche molto divertente, eccetera, immagino che per voi sia anche abbastanza impegnativa alla fine dei conti. Sì, diciamo che è un misto, c'è l'impegno, ci deve essere l'impegno, ma sicuramente è estremamente formativa e il divertimento c'è in assoluto, è proprio l'aspetto secondo me principale, il fatto che uno si trova su un palcoscenico a declamare, di parlare di scienza, quindi a parlare fondamentalmente di quello che gli piace, è un qualcosa che ha nel divertimento il suo aspetto principale. Ricordiamo un po' qual è la formula di FameLab, ognuno di voi ha a disposizione un tot di minuti per esporre una propria ricerca, un proprio capo di scienza. Esattamente, l'idea di FameLab è riuscire a esporre un argomento scientifico senza l'utilizzo di proiezioni, immagini, quindi aiuto con diapositive, proprio un po' contro quello che è il sistema classico scientifico del seminario, no? E uno deve riuscire a esporre questo argomento in soli tre minuti. Tre minuti deve essere chiaro, deve essere in grado di concludere l'argomento e soprattutto deve essere coinvolgente nei confronti del pubblico. Ma è vero che qualcuno porta anche degli ammenicoli strani? Ecco, si possono utilizzare degli aggeggi, uno se vuole si può anche travestire, cosa che io tra l'altro ho anche fatto. Ah sì? Sì, sì. Appunto, questa è la parte divertente, un po' bisogna lavorare di fantasia per trovare il modo più coinvolgente per esprimere l'argomento voluto. FameLab nasce dove? Nasce a Cheltenham, è questa cittadina inglese in cui fanno un festival della scienza in giugno e nel 2005, se non ricordo male, c'è la prima edizione di questo concorso organizzato dal British Council in Inghilterra e poi, diciamo così, allargato a vari paesi. Quando l'ho fatto io erano 27 paesi in tutto il mondo, adesso non mi ricordo se ogni tanto può cambiare. Come funziona? Qual è la formula? Ci sono le eliminatorie, diciamo così? Sì, la formula è generalmente ci sono, c'è una fase eliminatoria che viene in tot città, quest'anno mi sembra che in Italia siano 10 città, in cui i concorrenti si sfidano in una o due prove, quindi devono preparare una o due presentazioni e i primi due che vincono questa eliminatoria arrivano alla, possono fare una masterclass di preparazione, quindi tutti i vincitori di tutte le città fanno questa masterclass di preparazione e poi accedono alla finale nazionale, in cui viene scelto, viene selezionato il vincitore che va a partecipare alla finalissima che si tiene in Inghilterra. Sempre a Cetnam? Sempre a Cetnam. Ovviamente poi ogni nazione ha il suo organizzatore, in Italia diciamo l'organizzazione complessiva è sotto Psi Quadro, che è un'organizzazione scientifica con sede di divulgazione scientifica che sede a Perugia e dal British Council nella sezione italiana e poi invece per ogni città ci sono i vari organizzatori. Qui a Trieste, essendo una città estremamente ricca, diciamo così, di enti scientifici, abbiamo l'immaginario scientifico che cura Femme, Sissa, il comune di Trieste, l'università di Trieste, l'università di Udine e l'area Science Park, quindi un bel gruppo. Ma non ho mai capito questo, la partecipazione è riservata a studenti o comunque insomma ricercatori triestini o comunque che lavorano a Trieste o non è... In generale no, nel senso ci sono dei vincoli e i vincoli sono che un partecipante deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e non deve aver compiuto il quarantunesimo, cioè non bisogna andare troppo con l'età e... Io manco la prima avrei potuto partecipare, nel senso che ci penso, no, manco il 2005. Diciamo l'altro requisito importante è che ovviamente uno non faccia di mestiere già il divulgatore scientifico, quello è logico, però in realtà fondamentalmente chiunque abbia piacere di presentare un argomento è caldamente invitato. Sì, anche uno studente di superiore, insomma, se ha oltre 18 anni potrebbe farlo. Ovviamente è più pensato per chi, diciamo, è già all'università che ha già una conoscenza un pochino più, però fondamentalmente chiunque si sente di presentare. Sì, non c'è una... diciamo così, le regole sono quelle, ecco insomma non sono esclusive anche se poi... Esatto, la regola è divertirsi, divertirsi, parlare di scienza, è anche un modo così per dare possibilità a tante persone che magari non hanno mai avuto piacere di raccontare quello che fanno, di farlo su un parco scenico. Senti, chi vi giudica? Ecco, c'è una giuria che viene selezionata di persone comunicatori della scienza, scienziati, anche che un po' curano questi tre punti che sono il carisma, la capacità di esporre fondamentalmente, la chiarezza e in realtà le commissioni a Trieste mi sembra sia più o meno stabile, la commissione giudicatrice. In generale poi alla finale nazionale e soprattutto all'internazionale cambiano spesso, quindi ogni volta ci sono persone diverse e questo, diciamo, un po' influenza anche chi vince e chi non vince. E, diciamo, magari indirettamente lo hai già detto, però le caratteristiche che sono richieste quali sono, immagino, la chiarezza, perché l'hai detto, la chiarezza nell'esposizione? La completezza, il carisma, l'abilità di saper comunicare. Che non è semplice. Che non è semplice, diciamo. Poi, ripeto, anche qui dipende molto dal giudice, per esempio alla finalissima internazionale di Cheltenham, dipendeva molto, determinate commissioni giudicavano di più la completezza e la compostezza piuttosto che la verve teatrale, quindi dipende un po' anche dal giudice. Beh, lo sono inglesi anche. Hanno un modo di far comicità particolare, diciamo così. Questo è vero. Il tuo argomento era, allora, mi pare, nelle selezioni, chiamiamola così, materia ed energia oscura? Sì, ho parlato di quello che è il famoso lato oscuro dell'universo, il fatto che noi dell'universo... Già, dire lato oscuro, già uno pensa a... Esattamente. Che sappiamo, no? Infatti, non per questo mi sono travestito dal nuovo cattivo di Guerre Stellari... E chi? Come si chiama? Kylo Ren. Per quello nuovo... Perché non ho trovato la maschera di Darth Vader del vecchio? Ma vabbè. Eh, sì, ci sono queste componenti oscure dell'universo che ne rappresentano la maggior parte, ma fondamentalmente si sa che ci sono, ma non si sa quello che sono, o meglio, si hanno delle idee, e quindi è un argomento molto affascinante. Eh, sì, questo è stato quello, insomma, che ho portato qui. E laddove invece nella finale italiana, credo, e anche poi dopo, anche in... No, dopo ho ricambiato di nuovo un po'. Ah, ho capito. Nella finale italiana, insomma, l'argomento è stato quello dei buchi neri. Buchi neri, sì. Che è collegato a quello precedente, in qualche modo, come grosso modo, o proprio... Diciamo, dipende dai punti di vista, ci sono delle teorie che associano i buchi neri a una di queste componenti oscure, ma in realtà sono due branche, possiamo dire, un po' diverse. Io in particolar modo ho parlato di un effetto molto carino dei buchi neri, che il buco nero è un oggetto che si pensa che sempre attiri tutto dentro di sé. Invece c'è un effetto per cui anche il buco nero, in qualche maniera, riesce a dimettere qualcosa. Quindi questo è stato l'argomento... L'hai usato anche travestimenti strani? Lì ho usato un'analogia con Romeo e Giulietta. Una storia romantica di due particelle che nascono vicino al buco nero e vengono separate fondamentalmente dalla gravità del buco nero. Una finisce dentro e l'altra viene, diciamo, sparata all'infinito e quindi sembra che il buco nero abbia appena emesso una particella. Due amanti che vengono separati da questo oggetto. Ma come ti vengono... Adesso, a parte tutto, questa ispirazione da Romeo e Giulietta com'è che ti è venuta? In realtà era il cinquecentenario, mi pare, di Shakespeare. Stavo cercando di tirar fuori qualcosa su questa presentazione. C'era la mia ragazza a un certo punto, ma questa cosa mi ricorda Romeo e Giulietta. Fatto, mettiamoci dentro Romeo e Giulietta. Grande. Il parlare di... Allora, una delle opportunità che FameLab concede è appunto anche quella di parlare in pubblico. Sì. Ecco. Dovrebbe essere... Non dovrebbe essere difficile per chi comunque, non so, per un ricercatore, per un... O quantomeno per qualcuno che ha già passato anche lo scoglio della tesi di laurea. Però capisco benissimo che possono esserci delle differenze notevoli. Grosso modo la tesi di laurea la fa i presenti, magari gli insegnanti che hanno aiutato il tuo percorso, i parenti, gli amici. È un uditorio molto particolare, eccetera. Però, insomma, immagino che... Mettiamola così. Per alcuni non dovrebbe essere la prima volta che si parla... No, quello sicuramente. Non è la prima volta che si parla in pubblico. In realtà, se uno fa ricerca, quindi lavora nell'ambito della ricerca, si è pieni di seminari, scuole, meeting nei quali uno deve allenarsi a parlare, prevalentemente in inglese, in quel caso, perché la ricerca è fondamentalmente in inglese. E quindi sì, però lì è un ambiente diverso, diciamo, cambia il pubblico e il modo di esprimersi al pubblico. Qui è più un discorso di far arrivare un messaggio che può essere molto complesso a un pubblico che può essere anche il più generico possibile. Lì sta la forza di... Sì, sì, non c'è, altrimenti non avrebbe senso, nel senso, parlare di queste cose a chi già le conosce, sì, non è... Sì, non sarebbe il senso stesso dell'iniziativa. Diciamo poi, ecco, che un'altra cosa, proprio per aiutare le persone in questo, soprattutto a Trieste, gli organizzatori di FameLab organizzano anche due giornate di, così, potenziamento delle abilità comunicative, in un caso proprio insegnando come si deve sintetizzare un argomento, come si deve preparare un argomento in tre minuti, quindi proprio l'abilità comunicativa in sé per sé, nella seconda anche la parte teatrale, che non sembra, ma riveste comunque un ruolo importante, soprattutto il riuscire a mantenere l'attenzione quando si sta parlando di argomenti che possono diventare un po' spigolosi. Qual è la cosa, tutto sommato, più difficile? Riuscire a concentrare il tutto in un periodo di tempo relativamente breve, come tre minuti, oppure, appunto, preparare anche, diciamo così, la parte, il cotè spettacolo, diciamo così, detto in termini buoni, no? Diciamo, probabilmente la più grossa difficoltà... Poi dipende anche, immagino, dal carattere della persona. Dipende molto dal carattere della persona e quanto uno è portato verso, appunto, più il lato di spettacolo, più il lato del messaggio diretto, ma sicuramente il concetto fondamentale è riuscire a trovare quel messaggio che riassume un argomento che, appunto, può essere molto complicato. Quindi la parte difficile è trovare il messaggio, poi si può rivestire in tutte le vesti che uno più desidera. Però forse sì, il riuscire a trovare quel messaggio giusto che deve arrivare alla gente su un argomento vastissimo, quello almeno per me è stata la parte più impegnativa. Anche nel caso vostro vale la regola delle tre parti, come si dice in alcuni film, cioè presentazione, sviluppo, chiusura? Sì, in teoria sì, questo credo sia, se non ricordo male, è stato anche uno degli argomenti che quando ho fatto io la masterclass preparatoria era proprio di base, cioè l'argomento va iniziato, va sviluppato e poi va concluso. Anche il modo in cui uno lo fa, cioè cercare di non essere mai monotono. Quello è il concetto anche alla base di un bellissimo film come Prestige. Sì, esatto, esatto. Ti dicevo un po'. Parlando anche prima, questa è una domanda che io faccio molto spesso, poi abbiamo detto, tu hai fatto fisica? Sì, ecco, sì. Io ogni tanto la faccio questa domanda perché insomma mi incuriosisce molto. diciamo così, l'atteggiamento che il cinema ha avuto nei confronti di alcuni problemi della fisica, della scienza eccetera, che fino a qualche anno fa sembrava abbastanza, anche se parlavi con della gente, sembrava abbastanza così molto, come dire, sì, più orientato dal punto di vista dello spettacolo che non dal punto di vista della scienza eccetera, viene fuori sempre più che in realtà anche vecchi film, che magari qualcuno potrebbe considerare così, appunto, solo ed esclusivamente espedienti narrativi di un certo successo, in realtà c'era sempre una base scientifica anche piuttosto, come dire, importante, diciamo, poi dopo, vabbè, declinata in mille modi, ma la base di partenza c'era sempre fondamentalmente. Diciamo che ecco, si possono trovare in letteratura cinematografica film anche molto vecchi, fatti molto bene dal punto di vista scientifico, quindi che curano molto la parte di dire, cioè, sì, magari può essere fantascienza ma basata su qualcosa che non è completamente campata per aria, poi magari si trovano in altri film anche recenti, magari anche belli da vedere, però si trovano delle cose che sono, diciamo, molto molto divertenti anche da vedere quando uno poi, cioè, il problema è anche questo, quando uno studia molto la parte scientifica, delle volte si perde anche un po' il gusto a vedere questi film perché si notano... Sì, sarebbe stata la domanda successiva, cioè, se riuscite voi ad andare a vedere un film di fantascienza senza poter dire, ah, vabbè, ma questo poi dai... In generale uno ci prova, diciamo, spegne il cervello, ecco. Però no, no. Diciamo, ecco, per esempio, uno degli ultimi film che siamo andati a vedere con altri amici scienziati, tra l'altro ecco noi, io faccio parte anche di un'associazione di divulgazione scientifica qui a Trieste, che si chiama Science Industries, che appunto si diverte un po' a fare questo tipo di cose, di portare la scienza in giro. E siamo andati insieme a vedere questo film di fantascienza, a un certo punto era il nuovo film di Besson, mi sembra. Udio, Valerian. Valerian, esattamente. Nell'insieme era godibile, diciamo, ma c'era questa scena iniziale in cui c'era questa gigantesca stazione spaziale che viene via lanciata nello spazio profondo e viene spinta via nello spazio profondo, un po' come se io dalla Terra prendo un oggetto e lo spingo verso l'alto. Questa è la cosa più sbagliata che uno deve fare se vuole veramente allontanarsi da un pianeta. In realtà io posso andare lontano quanto mi pare, ma se vado verso l'alto la forza di gravità mi rispinge verso il basso. Il modo per andarsene da un pianeta è quello in realtà di accelerare, diciamo, nella direzione della curva del pianeta. Quindi bisogna andare così e accelerare. Alla fine l'orbita diventa sempre più grande e uno se ne va. Ma non buttarlo in aria. Mai buttarlo in aria. Perché poi poi torna giù, ce li avevo anch'io. Invece poi succede anche, per esempio, io una volta feci vedere a Mauro Giacca una scena da un film fondamentalmente abbastanza mediocre, posso dirlo, insomma, che si chiama I ragazzi venuti dal Brasile, dove si supponeva che Hitler si fosse fatto clonare, però la follia di questi era che bisognava, per avere tanti piccoli Hitler, bisognava ricreare le condizioni di vita di Hitler. Quindi questi ragazzi venivano dati in adozione a famiglie in cui la differenza di età fra i genitori era la stessa che avevano i genitori di Hitler e la condizione sociale dei genitori era la stessa che avevano i genitori di Hitler. A un certo punto, quando i padri compivano l'età in cui il padre di Hitler era morto, Gregory Peck, che faceva Menghele, mandava in giro dei sicari a farli fuori, eccetera. Al di là di questa cosa veramente, eccetera, eccetera, però c'è un momento, dura due minuti, dove a un vecchio cacciatore di criminali nazisti viene spiegata che cos'è la clonazione. Mauro Giacca vide questa cosa e dice, beh, il film può essere quello che è, può non valere niente, eccetera. Questi due minuti in cui la clonazione viene spiegata sono perfetti per divulgare questo concetto. Io ricordo che quando io ero bambino c'era un telefilm della serie del Tenente Colombo dove uno dei delitti era compiuto attraverso una percezione subliminale e spiegavano nel telefilm che cosa fosse, anche là in due minuti, meno addirittura, gli spiegavano le cose di questa tasse e la mia generazione, quantomeno, insomma, noi sappiamo abbastanza di appunto queste cose perché siamo stati aiutati da qualche cosa di molto elementare, verrebbe da dire. E questo, diciamo, secondo me è proprio la funzione principale della divulgazione scientifica, cioè nel minor tempo possibile, perché alla fine troppo parlare, senza abbassarsi, quello è difficile, quello è difficile. Un altro dei punti, infatti, che mi sono scordato di dire sulla difficoltà del preparare un talk, un TED Talk in generale, un talk alla FameLab, è proprio il discorso di non banalizzare l'argomento, perché spesse volte uno diceva per farla facile sono costretto a banalizzare. Qui è veramente la cosa difficile perché alcuni concetti sono molto difficili da spiegare senza cadere nel banale, quindi l'abilità del divulgatore è proprio lì, quella di riuscire a mandare il messaggio corretto. Questo è importante soprattutto nella società di oggi dove la ricerca, ahimè, è problematica dal punto di vista di un futuro lavorativo, dal punto di vista, proprio così, del camparci proprio buttata sul piano terra-terra. E quindi, secondo me, far arrivare il messaggio corretto del perché noi facciamo quello che facciamo e a cosa serve, soprattutto, potrebbe evitare tante incomprensioni che poi portano a dei fatti anche spiacevoli in cui si crea veramente un divario tra il grande pubblico e lo scienziato. Un esempio, quello che è successo poco tempo fa, le Iene, che hanno preso un servizio di… parlavano di un esperimento al Gran Sasso e l'hanno paragonato la presenza di oggetti radioattivi in un esperimento al Gran Sasso a qualcosa tipo Fukushima. Quindi siamo su livelli… Ah, avevo letto, sì, non l'avevo approfondito. E questo purtroppo ha scatenato una polemica incredibile e qui di nuovo si trovano gli scienziari da una parte, il pubblico dall'altra. Quindi, per evitare proprio che ci siano queste incomprensioni, il ruolo della divulgazione è, secondo me, primario. Primario… e si può dimostrare in realtà che, appunto, e questo è uno dei grandi vantaggi di FameLab, uno dei grandi punti di forza, che parlare di scienza non è un qualcosa di noioso, è uno spettacolo, è un qualcosa che può essere trasmesso in tv all'assegua di un qualsiasi altro programma di intrattenimento. In questo fondamentalmente si dice che proprio i maestri sono gli inglesi o comunque gli anglosassoni che hanno questo modo, forse, insito nel loro… anche nel loro DNA di rendere tutto più leggero, senza scadere nella faciloneria e nel banale. Non a caso FameLab è nato proprio lì, quindi… Abbiamo ancora un po' di tempo, ti devo stuzzicare per forza su un qualche cosa che riguarda appunto Trieste, città della scienza, nel senso che… Tu sei Umbro, sei venuto a Trieste da poco fondamentalmente, da tre anni, ecco, che da un punto di vista proprio della parte scientifica della città, eccetera, qual è l'opinione? Perché noi potremmo anche essere molto bravi a raccontarcela, nel senso abbiamo tutte queste istituzioni scientifiche, eccetera, eccetera… Adesso, detta fuori dai denti, è davvero così? Cioè anche fuori, fuori città, questo è noto, è assodato, eccetera? Beh, ecco, mettiamola così, io posso portare la mia esperienza personale che vengo da Terni, dal centro Italia. Terni, per esempio, è una città che purtroppo sta morendo lentamente, forse non così tanto lentamente, l'università è un distaccamento di quella di Perugia e è soffocata, fondamentalmente non riesce ad evolversi. Io ho studiato pianoforte a un conservatorio che era molto molto noto e che ultimamente sta avendo dei problemi e era veramente uno dei punti di forza della città e delle iniziative che sono presenti qui a Trieste in confronto a Terni è vuota. Anche Perugia, che nonostante sia un capitano di regione, anche in questa, sì. Sì, 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 che abbia un fervore culturale anche essa molto ampio. Io devo essere sincero, venire qui, settembre, per esempio settembre di quest'anno, pensiamolo, è stato un susseguirsi di eventi, di divulgazione, di fervore scientifico che per me sono stati davvero eccezionali, Trieste Next, la Maker Faire, poi c'è stata la Barcolana in cui l'osservatorio tra l'altro ha avuto una grande partecipazione, quindi tutta una serie di eventi, la notte dei ricercatori, tutto ciò per dire effettivamente c'è un grandissimo, diciamo, interesse da parte delle istituzioni che fanno scienza a Trieste per fare scienza e fare divulgazione. Quindi sì, la risposta è, almeno nella mia esperienza personale, l'energia che ho visto qui a Trieste dal punto di vista scientifico non è un qualcosa che si trova spesso. Laddove invece l'altra domanda che penso te la anche aspetti, questa storia per esempio della fuga dei cervelli, eccetera, ogni tanto poi ci sono anche dei cervelli di ritorno, eccetera. C'è un dato che a me non torna sotto certi versi, o quantomeno in realtà mi torna ma vorrei sentirlo dire da altri, nel senso che da un lato è vero che soprattutto in determinate discipline l'idea di non rimanere chiusi in un determinato ambiente, penso sia alla base poi, alla base dello studio, eccetera. Quindi fondamentalmente credo che chi sceglie una determinata strada ha in mente l'idea di poter lavorare anche all'estero. Vero è che mi pare di capire, questo è l'altro dato, che il nostro paese poco fa intanto per trattenere i nostri, ma probabilmente poco fa anche per calamitare gli altri. Credo, non lo so, vorrei sentirti in questo senso. Anche qui diciamo io ho un'opinione personale che è condivisa da almeno i colleghi con cui sono più a stretto contatto, che è il fatto che il problema è la sicurezza del lavoro. Cioè non sicurezza nel senso, oddio mi faccio male, sicurezza nel senso del... Non è una questione di caschi e guanti, ho capito. Del precariato. Allora già adesso effettivamente le cose stanno un pochino cambiando, si stanno acquisendo, cioè lo Stato sta iniziando a riconoscere il fatto che il ricercatore non è una persona che sta studiando e basta, ma sta effettivamente lavorando. Però quello che è vero purtroppo che ancora oggi, in Italia soprattutto, la ricerca è veramente considerata qualcosa di, diciamo così, di nicchia, possiamo dirlo. Nonostante abbiamo delle eccellenze, la preparazione delle nostre università è molto, molto elevata. Io ho avuto... Tanto è vero che appunto non sarebbero tanti quelli italiani che vanno all'estero se non ci fosse una preparazione perché, insomma, non è che... Eh, questo è... Diciamo che all'estero c'è un'attenzione molto maggiore verso il ricercatore. Il ricercatore è una figura più riconosciuta, diciamo così, al di là poi del fatto che anche lì ormai si parla solo di precariato. Quindi due anni in un posto, due anni dall'altra parte del mondo, così funziona. Questo quindi il viaggio è una prerogativa, diciamo, che va messa alla base di questo tipo di carriera. Però sicuramente il modo in cui noi siamo considerati all'estero ha molto più valore per adesso rispetto a quello che c'è. Quindi Italia questo, dal nostro punto di vista, crea un po' di dispiacere. Ma per esempio nel nostro paese manca a livello di ricerca, diciamo così, un forte intervento, un forte interessamento del privato rispetto a quello che succede negli altri paesi e questo sarebbe un ulteriore problema che si aggiunge. Anche. Diciamo che il privato sta iniziando... In determinate aree ci sono dei buoni agganci, così tra privato e università. Quello che fondamentalmente c'è il problema in Italia, che è il problema veramente delle assunzioni. Per esempio, se io a un certo punto ho finito il dottorato, ho deciso di andare, di smettere di fare questo tipo di lavoro, di fare ricerca, di andare in un'azienda, io troverò molte difficoltà a trovare lavoro, perché ovviamente essendo molto specializzato in un argomento di ricerca, l'azienda dice, io che ci faccio con uno che sa tutto di cosmologia, a me serve magari per qualcos'altro. Sì, ho capito, ho capito. Quindi, diciamo, c'è l'interazione, anche qui a Trieste è molto forte con alcune aziende, ma ancora non siamo sicuramente ai livelli dell'estero, di alcuni paesi dell'estero, poi non tutti. Quindi anche là, sì, ci sono luci ed ombre. Certo, non è che l'estero è tutto rosa e fiori, questo dobbiamo dirlo. Quindi, perché se no si sente sempre parlare, ah sì, l'estero qua, l'estero qua, io quello che dico, va benissimo andare all'estero, è importante per la formazione di chiunque avere dell'esperienza all'estero, ma ricordiamoci che noi dobbiamo migliorare il paese in cui siamo. Sì, anche perché, e questo è un altro discorso che forse bisogna fare, uno, voglio dire, un ricercatore, uno scienziato italiano, è stato formato, diciamo così, all'interno del sistema paese, quindi adesso io non voglio buttarla sul, come si dice, sul qualunquismo, eccetera, però siamo noi che formiamo i nostri scienziati, eccetera. E poi se uno li manda via, nel senso, che senso ha? E poi c'è un'altra cosa che io non ho mai capito, e anche questa, io non capisco quelli che, non so, studiano, fanno questo, quell'altro, eccetera, eccetera, poi a un certo punto, paff, e dicono, no, 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 mi sono stancato, vado a fare l'eremita, vado a coltivare cavoli, eccetera, vabbè, cioè, francamente, chi ha buttato via tempo, chi ha buttato via danaro, insomma, però, quelli sono altri discorsi. Sì, quindi diciamo che dipende anche un po' dalla persona, magari una persona è talmente stufa di quello che fa, dice, basta, butta all'aria tutto, può succedere, via. Sì, però non vai a coltivare banana, insomma, a me pare un po' strano. Allora, io ringrazio Lorenzo, il dottor Lorenzo Pizzuti, per essere stato con noi, avete visto che, insomma, il premio è stato meritatissimo, perché le capacità comunicative ci sono. Ecco, vorrei ricordare, ovviamente, a tutti i telespettatori di iscriversi alla nuova edizione di FameLab. Sarà cosa? Sarà a febbraio, il 27 febbraio, la selezione a Trieste, alle ore 9, ci sarò io e un altro ragazzo che ha fatto FameLab l'anno prima di me, a presentare FameLab, quindi iscrivetevi numerosi, perché è tutto veramente da divertirsi. Allora, ci vedremo là, perché noi di solito una delle due giornate la seguiamo, perché è veramente molto... è sempre al miele, no? È sempre al miele, ovviamente. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie. Dopo la pubblicità cambiamo argomento, come hai detto prima, parliamo di un'iniziativa che è collegata al Festival Aveninchi. in maniera migliore, questo... Questo lo fai venerdì 29. Venerdì 29 dicembre, sì. Due giorni prima, Somni. Ah, eccoci, sì. Allora, non so che cosa i nostri telespettatori avranno sentito, ma insomma... Speriamo... Allora, come vedete, adesso non c'è grosso problema di illuminazione nello studio, perché... No, perché... Ogni volta che viene qualcuno... Autonoma. Ogni volta che viene qualcuno dell'Armonia, non c'è bisogno. Allora, siamo con Paolo Dalfovo, che è il vicepresidente dell'Armonia, grazie per essere tornato a trovarci, questa sera parliamo della venticinquesima edizione del Festival Internazionale Aveninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria. È una manifestazione, è un compleanno molto importante, che celebra anche un altro anniversario molto triste, ma anche questo molto importante, perché lo scorso 10 novembre, non dice, cadevano vent'anni dalla scomparsa di Aveninchi. Aveninchi ci lasciava il 10 novembre del 97, la nostra amata presidente onoraria, e da quell'anno là, infatti, il festival che in realtà iniziava cinque anni prima, come Festival Internazionale dei Dialetti Istro-Veneti, si decise di appunto dare, intitolarlo ad Aveninchi. Noi lo facciamo ogni anno, ma giova ripetere, parlare un pochettino di questa attrice che è una di quelle rare artiste, io ho una mia classifica degli artisti molto particolare, perché ci sono gli artisti che rispetti, della cui grandezza non c'è, come dire, non deve essere messa nemmeno in dubbio, Eduardo De Filippo è uno di questi, eccetera. E ci sono quegli artisti come Aveninchi, come anche altri a livello internazionale, che per chi ha avuto modo di vederli in scena o attraverso la televisione, e immagino anche per chi ha avuto modo di conoscerli personalmente, sono quegli artisti il cui solo nome ti dispone al sorriso, e credo sia un, significhi qualche cosa di più, insomma vuol dire, quello che qualcuno dice, bucare lo schermo, non sono tantissimi, sono i più vari, per esempio un'altra che mi viene in mente, che Lina Volonghi era anche un'altra grande, che quando la senti ti metti di buon umore, oppure ti mette tranquillo, non so, insomma. Ma nello specifico Aveninchi, la capacità che aveva Aveninchi di parlare tutti i dialetti. Quella era una roba incredibile. Ma non solamente in qualche flash, in qualche sketch, che lo vedi anche oggi, è fatto anche molto bene. Sì, sì, sì. Cioè lei faceva, portava avanti tutta la commedia, tutto il film in un dialetto perfetto. Circo la... Ma cambiava dialetti con una facilità pazzesca. Circo la su YouTube, una versione dell'Aria del Continente, che è una commedia di un siciliano, Nino Martoglio si chiama, dove lei duetta in siciliano con Turi Ferro. Non con uno da poco, eccetera. E poi voglio dire, beh, le romane, al cinema, soprattutto. Però credo forse appunto una grande, una bella persona. Credo di sì, anche perché io me l'ho conosciuta negli ultimi anni, ho avuto la fortuna di conoscerla. Ma Marina, la figlia, che viene spesso a Trieste a trovarsi... E' venuta anche il nostro ospite a trovare. E' tuttora lei, la presidente onoraria. E sono bellissime gli aneddoti che racconta. Questa casa di Roma aperta, non sempre porta aperta, e lei ragazzina che entrava in cucina, e in cucina trovava Alberto Sordi. Fabrici, questa gente. E' venuta a mangiare la pasta, cioè delle scene da film, da film, invece reali. E probabilmente adesso queste cose non succedono più, per tutta una serie di cose. Ed è evidente anche da quello che si vede in giro, ma questo è un altro discorso. Allora, voi incominciate il... Noi ne è già iniziato in realtà. Ah, già iniziato in dieci. E' iniziato domenica, domenica dieci dicembre, con i Lazzaroni, una compagnia vittoriese del Teatro Veneto, di Vittorio Veneto. Uno spettacolo veramente molto, molto bello, molto interessante. Una bellissima compagnia, un bellissimo testo. E' veramente iniziato nel miglior modo possibile. Dopo, domani c'è un'altra. Domani sono i ragazzini, i bambini, per le scuole, il teatrino. Ecco, questo qua è un'altra cosa voluta proprio da Veninchi. Ci ripeteva continuamente, fate qualcosa, anzi, fè qualcosa per i fioi. Proprio in questo ambito del festival abbiamo voluto da subito inserire questo teatrino dedicato alle scuole, teatro per i bambini, fatto dai bambini. Cosa molto importante. Infatti domani mattina alle dieci c'è questa... Achille Campanile in scena, del gruppo teatrale della scuola primaria Biagio Marin dell'Istituto Comprensivo Italo Svebo. Achille Campanile che poi è bellissimo, ma è anche piuttosto... Achille Campanile è bellissimo, ma in contemporanea in realtà con quello che sta succedendo nel teatro Silvio Pelico, perché Silvio Pelico prosegue la stagione con il povero Piero tratto da Achille Campanile. Ah, non so perché questo era... Sì, 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 proprio ancora la prossima settimana. Comunque in concomitanza con... Poi dopo prosegue, vediamo di dare un po' di appuntamenti. Poi riprendiamo, venerdì quindici, con la compagnia teatrale La Bottega, con Il Rosario in tasta, una commedia in dialetto concordiese. Concordiese. Proseguiamo sabato 16 dicembre con gli amici striani che tornano, ma infortunatamente qualche anno sono mancati perché purtroppo è difficile per loro organizzare e mantenere una compagnia teatrale. Infatti in questo appuntamento ci sono tre compagnie, abbiamo la compagnia degli italiani di Materara, la comunità degli italiani di Buie e la comunità degli italiani di Villanova del Quieto. propongono tre atti unici, brevi, ma insomma siamo molto contenti di ospitarli proprio per dare una mano a loro a mantenere vivo questa loro tradizione teatrale. Domenica 17, weekend a Capri. Weekend a Capri, quello che lo accompagna la Tartaruga della provincia di Rovigo. Sabato 23 dicembre invece proponiamo una delle compagnie dell'armonia, la compagnia delle proposte teatrali con Goccio De Soto. Questo è il testo che ha vinto, lo spettacolo, non è il testo, lo spettacolo ha vinto la scorsa stagione dell'armonia come miglior spettacolo e vogliamo appunto riproporlo. Ma non finisce qui quest'anno perché è il 25esimo anno del festival e abbiamo voluto fare le cose un po' più in grande. Un progetto veramente ambizioso. Avremo una serata al Politea Marossetti, l'abbiamo intitolato Gran Galà dell'armonia, presenteremo lo spettacolo a Zozo, della compagnia dell'armonia, che è quello che ha vinto la scorso luglio la Guglia d'Oro. La Guglia d'Oro è il festival nazionale del teatro dialettale e per il secondo anno consecutivo l'armonia lo ha vinto. Quest'anno con Zozo portiamo questo testo in scena in una serata totalmente benefica. In realtà la beneficenza è già iniziata al teatro Miela Domenica, con una gentile donazione dell'azienda Caffeilli, che si è donato un sacco di barattolini di caffè da 125 grammi, che noi omaggieremo tutte le persone che vorranno fare una piccola donazione. Abbiamo iniziato domenica, proseguiremo per tutte le serate del Miela, per poi andare al Politeamo Rossetti con un biglietto d'entrata di 10 euro totalmente in beneficenza. Che andando al Burlo. La beneficenza andrà per un progetto del Burlo Garofalo, e noi siamo andati al Burlo a chiedere cosa vi serve. E loro ci hanno detto che hanno già un progetto pronto, ma era nel cassetto da un po' di tempo, per l'acquisto di un'auto medicalizzata, per il trasporto di materiale biologico, sangue e varie cose. E siamo convinti di riuscire a portare a termine questo progetto grazie all'aiuto di tanti sponsor. Il primo, devo citarlo come primo, ma perché veramente il Conad, soprattutto un Conad granduino, e poi si sono associati anche gli altri Conad della provincia di Trieste, perché Daniele Acola, che è la titolare, è sempre il marito del punto vendita, è stata assieme a me quella che ha avuto l'idea di fare questa serata. E' partito tutto da lì. E poi, mano a mano, abbiamo messo assieme un po' i pezzi, i pezzettini, tutti gli altri. Ci sono aggiunti appunto il Caffeilli, si è aggiunto il Salome Pisto Principe, si è aggiunto la Banca di Credito Cooperativo, e tutti gli altri iconi della provincia, dando già un grossissimo contributo. E dunque ci teniamo molto a questa serata. E questo, ricordiamo appunto che Zozo è la versione, diciamo così. Sì, Zozo è la versione triestina del Dio della carneficina, o Carnage nella versione cinematografica. Tra l'altro, qua ho visto nel coso che tu, rispetto alla... E questo, correggimi se sbaglio, perché io poi questo confondo sempre. Questo è il testo che viene presentato fuori abbonamento, no? Nella stagione. Questo è il testo che è stato presentato, in realtà, in omaggio agli abbonati. Ah, ecco, in omaggio agli abbonati. A fine stagione. È già una tradizione, questo era il terzo anno, ci sarà anche quest'anno, con un nuovo spettacolo. È un progetto dell'armonia che prosegue cercando di portare un teatro un po' più contemporaneo, un po' più moderno, all'interno di un contesto popolare, di teatro popolare, appunto, qual è l'armonia. E che vi porta bene, perché fondamentalmente... Sta portando bene, perché... Già il secondo anno che... No, il terzo anno, questo. Questo è il terzo anno, perché abbiamo iniziato con Luisa e Giulio, che è praticamente piccoli crimini coniugali, abbiamo vinto anche il premio, anche quello a Eugliano. Ecco, intendevo quello, sì. Quello lì. Poi abbiamo proseguito, siamo proseguiti con Buon compleanno, due anni fa, l'altro anno, appunto, questa ultima stagione, con Zozo, e finiremo con... Finiremo, no? Finiremo, proseguiamo con questa stagione qua, con Stupendo. È un testo che nasce da un laboratorio, fra noi proprio, di questo gruppo dell'armonia. Ecco, perché è interessante che qui vengono, diciamo, a questo spettacolo offerto agli abbonati, diciamo, contribuiscono elementi di più compagnia. Beh, in questo caso, nel Zozo, siamo io della compagnia Exaleve del Totti, Monica Parmeggiani del Gabbiano, Elena Bisel di Tutto Fa Broadway, Chino Turco degli Amici di San Giovanni, la regia di Riccardo Fortuna del Gabbiano, e anche altri che in realtà collaborano, perché c'è una mano veramente un po' di tutti. Quando noi parliamo di, affrontiamo il discorso del teatro amatoriale, io, insomma, non so mai come usare questo aggettivo, insomma, perché... Amatoriale mi piace, perché ama, lo amiamo. Voglio dire, ci sono anche... Va bene, siamo persi. Da un altro punto di vista, cioè, nel senso, noi siamo abituati alle stagioni che propone Armonia, che hanno una caratteristica molto particolare, vincente, perché, insomma, questo ha bisogno di... 33 anni di... Nel resto d'Italia, che tipo di discorso fanno i teatri? A parte che credo che l'esperienza di Armonia sia unica nel nostro paese. Sì, unica, assolutamente sì. Cioè, una stagione così complessa... Hai ragione, non esiste in nessun'altra parte d'Italia, anche in zone con tradizioni grossissime, tipo il Veneto, ma ricordiamo Napoli, ad esempio. Non esiste nessuna associazione che ha fatto questo lavoro di concentrare in un'unica stagione, per 33 anni, fra l'altro. Eh sì, c'è che non è per... Un'unica stagione teatrale, un cartellone che inizia d'Ottobre... C'è tanto poco dopo Telequattro, in pratica. Eh sì, infatti, infatti. Che appunto inizia d'Ottobre, finisce d'Aprile. Non esiste. È interessante quando si va appunto in questi festival, come da Ancona, che eravamo quelli per il secondo, un anno consecutivo, o addirittura ospitare compagnie del Veneto, come appunto nella Veninchi, perché hai modo di confrontarti con queste realtà. Loro non sono in difficoltà spesso a trovare location, trovare degli ingaggi, usiamo questo termine. Importante in questi casi qua è la FITA, la Federazione Italiana di Tenato Amatoriale, che appunto organizza un po', fa da coordinatore per le compagnie. Ma l'armonia in realtà, pur appartenendo alla FITA, dando una grossa mano, in realtà lo fa da sé. Esatto. E a livello di testi, per esempio, in giro milano è un po' diverso. Sì, è solita difficoltà. Allora, spesso e volentieri, tutte queste compagnie, soprattutto Venete, propongono testi, hanno un bacino grosso, veramente un archivio storico enorme. E pescano lì. Hanno Goldoni, è già là. È già un Goldoni, un Gallina, cioè facciamo una serie di nomi importanti, come il teatro, ad esempio, napoletano, anche romano. O anche Lombardo, penso. Anche Lombardo, c'è una grossa tradizione, assolutamente. E noi siamo un po' in più difficoltà, anche perché non c'è una grande storia teatrale a Trieste, parte da Cecchialini, in realtà da Cecchialini, poi prima c'è pochissimo, quasi nulla. E oggi c'è una crisi di scrittura. E si va a pescare appunto nel teatro classico, un teatro o contemporaneo, come quella compagnia dell'armonia, e cerchiamo di appunto adattarlo. Non solo tradurlo, però, non è importante. C'è anche un adattamento al triestino e alla triestinità. Ecco, c'è una cosa che volevo chiederti. Se adesso, siccome noi stiamo, insomma, la televisione, ma non solo la televisione, i mezzi di comunicazione stanno cambiando ad una velocità impressionante, andare su YouTube adesso, rispetto a anche solo un anno fa probabilmente, ti mette in contatto veramente con delle realtà teatrali nazionali ed internazionali abbastanza composite e che in qualche modo riprendono anche i propri spettacoli e poi li mettono su YouTube. Alcune sono riprese veramente fatte da cani, nel senso che... Pirata quasi. Sì, a me o pirata che non... Eccetera. Altre invece sono riprese curate da, anche in quel caso, da compagnie amatoriali o comunque non da compagnie, diciamo, come si potrebbe definire, di professione sottistica, che circolano appunto su YouTube, eccetera. Io mi sto chiedendo da un po' di settimane a questa parte se questo è un bene o un male, nel senso la possibilità di... Intanto la possibilità di avere secondo me determinati un video di una certa qualità significa che c'è anche una disponibilità finanziaria a farli realizzare. Ma questo è un altro... Cioè mi chiedo che tipo di... Come si comunica ormai il proprio mestiere in un campo come... Il proprio mestiere e la propria passione in questo caso in un campo come il vostro. E non è facile ma è una bellissima questa riflessione che fai. Ma in realtà è come anche come il cinema. C'è tanta tv, c'è tanto però... La magia del cinema, andare in sala di grande schermo fa veramente sempre emozione. E così a teatro, chiaramente. Vedere una comedia seppur con riprese ottime, audio ottimo. No, non è mai la stessa cosa. Non è mai vedere dal vivo perché... Anche perché... Non si pensa mai nel teatro e chiaramente la prima. Anche perché poi lo spettatore, anche questo non ci si pensa più di tanto, è lo spettatore che poi decide la sua regia dello spettacolo che sta vedendo. Io potrei anche fregarmene di quello che sta facendo chi sta parlando. perché magari vedo qualche cosa in fondo. Magari sto guardando qualcos'altro che mi colpisce, certo. Però proprio vedo che c'è questa enorme dose di teatro in rete, diciamo così, che uno potrebbe crearsi la propria mini-stagione stando in poltrona. Sai, è il mondo che cambia questo qua, bisogna sempre capire poi dove si va a finire e... è un'evoluzione molto veloce come hai detto tu, Sì, sì, sì. Non si capisce ancora dove andare a parare, no? Sì, anche perché poi ci sono di queste... Io per esempio ho scoperto ieri nella mia, come si chiama, vabbè posso dirlo, in MyTV o questa scatolina che... Ma a un certo punto si materializza un'altra di queste piattaforme che non so, io non le ho chiesto, cioè, però voglio dire, poi vai a vedere e ieri sera a un certo punto mi sono divertito moltissimo perché in questa piattaforma, in Amazon Film si chiama, Amazon TV, Amazon TV, c'è l'ultima, l'ultima cosa di Woody Allen che sono sei piccoli episodi di mezz'ora che io ridevo come un cretino da solo, però voglio dire, sei delle volte veramente inondato da cose e non si capisce se deve esserci un freno, se deve esserci un limite oppure se tutto ciò ti forza anche a fare, a creare da te un fregno. Ma forse può anche dare, può suscitare soprattutto nei giovani una curiosità di venire poi a... Deve dire poi, andiamo a teatro poi a vedere cosa succede realmente. Ecco, il discorso con i giovani voi come li coltivate? Ma guarda, li coltiviamo bene nel senso che a parte appunto che ti dicevo nella Veninchi c'è sempre questo spazio ma poi abbiamo addirittura due compagnie una è la compagnia di giovani che poi i giovanissimi non sono più però rimanono sempre i giovani delle compagnie dei più giovani ragazzi di 30 anni sono giovanissimi e poi Banda Blanda Banda Blanda è questo progetto da anni ormai portato avanti da Gianfranco Pacco che è veramente dai bambini di 6, 7, 8 anni ci sono i preni di 15, 16, 17, 18 anni e ce ne sono tanti tra l'altro e dunque è molto bello questo teatro di bambini fatto per i bambini ma da bambini dunque e sta funzionando sta funzionando molto bene qui veramente lui è stato molto bravo a portare avanti tutto questo discorso creando anche un po' un gioco in realtà lì che involge in un gioco teatrale poiché recita recita sicuramente in italiano si dice recita altrimenti in tutte le lingue del mondo c'è il gioco teatrale e lì lo fa proprio fa giocare è vero in italiano in altre lingue si dice play esatto esatto non so il tedesco come si dice però temo a chiederlo sono forse gli unici a usare un altro un altro tipo di terminologia Gianfranco Pacco è stato molto bravo a farli giocare e questo li avvicina molto e invece questa è la mia curiosità una compagnia è fatta anche di adesso non voglio dire devo stare attento a non fare delle gaffe gente che va e gente che viene guarda c'è un gran via vai c'è un gran via vai il teatro è una cosa strana quando fai teatro o ti rapisce e non ti molla più per tutta la vita oppure ti affascina ti avvicini e poi ti spaventa perché poi affronta perché affronta al diario di affrontare il pubblico ma ne parlavamo prima con l'ospite con l'ospite precedente cioè l'idea di parlare in pubblico comunque di stare davanti a 300 non è semplicissimo ma al diario di questo spaventa al giorno d'oggi soprattutto l'impegno che ci deve essere per preparare uno spettacolo sono mesi di prove e non si scappa questo è vero mesi di prove ore di prove ripetere all'infinito certi pezzi che non funzionano cercare poi chiaramente gli amatoriali si fanno tutto da sé scene costumi la ricerca delle musiche tutta la parte amministrativa per fortuna noi come armonia abbiamo una struttura ecco una segretaria che conosce Sabina Ceschi che è meravigliosa che veramente è un vulcano di cose però c'è anche questo questo risvolto con le compagnie è autonoma e deve sbrigarsela da sé sono tante pratiche e dunque spaventa molto questo ma per esempio come lì come succede uno viene da voi viene da voi no guarda io che posso fare il mio esempio ho iniziato 32 anni fa oramai assolutamente per caso un caro amico purtroppo scomparso prematuramente l'altro anno Enzo Umek mi piace ricordarlo eravamo amici da anni e un giorno mi ha invitato beh vieni domani sera di cosa fai sono libero vieni a vedere vieni le sue prove a vedere le prove io ero io sono ero a quel tempo ma sono tuttora logicamente appassionato della Trieste dell'Antieste Antica del dialetto della storia della città e sapevo che loro facevano teatro dialettale e con capelletti facevano le commedie storiche e sono andato una sera a vederli e sono entrato io da quella stanza non sono più uscito però poi come ti hanno detto ti hanno provvinato diciamo no io sono stato una sera la seconda sera la terza sera e la quarta sera mancava uno mi sono trovato un po' più in mano beh già che ci sei leggi tu come Shirley MacLean panico terribile logicamente perché se non sai poi leggere il Triestino non è facilissimo sono sei abituato a farlo panico totale e poi da lì pian piano è andata in scena la prima volta è andata in scena e come andare in scena oggi la palpitazione a mille il sudore i freddi ma è vero che i gelidi ognuno poi ha le sue ma è vero che deve essere così ma guai se non è così perché allora finisce finisce il gioco poi la gente anche se ne accorge finisce l'emozione tua proprio deve emozionarti se non sei emozionato e se non ti emozioni non puoi emozionare è anche logico che ogni compagnia voglio dire ha i suoi testi ha i suoi interpreti quindi poi sceglie tutto i suoi stili anche poi i suoi stili ma per esempio non so questo non ho mai chiesto voi avete i ruoli fissi? no io nella mia compagnia andremo in scena a fine gennaio con un nuovo testo la regia è mia e io cerco sempre di far girare tutti e fargli fare cose che non non che non sanno fare che non hanno mai fatto che non sanno fare no preferisco non farlo perché devono sempre stare in sicurezza ma mettergli un po' la prova anche per tirare fuori delle cose nuove ecco questo sta andando molto a soddisfazione per gli attori si si capito stimola stimola molto anche perché così nessuno mette il pilota automatico no esatto esatto e poi c'è questo turn over anche di parti la principale che poi ambitano logicamente una parte importante è giusto dare un po' un turn over farlo provare far provare a tutti un po' anche non solo omeri e onori no si 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 perché poi onori ok ma gli omeri delle prove non devi mancare neanche un minuto cioè ti devi essere sempre è un impegno importante il pubblico no voi captate le reazioni del pubblico è certo subito insomma perché poi e in questo devo dire la verità l'amatoriale è come il professionista insomma non c'è una non c'è una grande una grande differenza insomma perché poi mi chiedevo no per esempio alcune compagnie di armonia la tua ma anche anche quella di Giuliano ogni tanto hanno un po' come dire ma non è che sia un percorso da cui si deve ma comunque insomma si cercano anche delle cose nuove insomma no di lavorare sulla tradizione triestina in modo completamente diverso guarda gli ultimi anni nella mia compagnia di San Vigliettori soprattutto perché Bruno Capelletti si è un po' ritirato un po' per l'età un po' per la stanchezza e ha fatto un lavoro straordinario in questi anni e sono un po' subentrato io nelle regie e aiutato da vari probabilmente della compagnia alla ricerca di testi da Walter Bertocchi a Roberto Tramontini che assieme a Walter Bertocchi fa le traduzioni e fa gli adattamenti e questo è un lavoro molto importante basilare il giorno dobbiamo parlare con qualcuno mandatemi uno di loro eventualmente così mi diverto anche a chiedere e dunque c'è questa ricerca questa ricerca sempre di trovare delle cose adatte anche alla compagnia però anche nuove soprattutto però mi pare di capire che un pubblico che potrebbe essere definito come conservatore come quello dell'armonia in realtà è molto meno conservatore o quantomeno si sta prendendo molto soprattutto negli ultimi anni appunto con queste scelte fatte un po' anche da altre compagnie da altre persone che un po' stanno portando avanti nuovi registi le compagnie si rinnovano come dicevi tu non c'è chi va chi entra chi esce le generazioni appunto crescono e prendono un po' in mano la situazione dopo tanti anni le operazioni stesse della compagnia dell'armonia questa ricerca di teatro contemporaneo perché questo qui parliamo di teatro contemporaneo zozo è proprio il teatro di oggi insomma stanno dando veramente veramente delle soddisfazioni enormi enorme e poi oltretutto poi ricordiamo anche che come oggi non parliamo della stagione in senso stretto però è una stagione che non si esaurisce con le quante sono sei repliche sono sei repliche per ogni compagnia perché poi dopo andate in giro e poi appena iniziamo a girare l'armonia organizza la stagione di Taranzano organizza assieme la stagione di Muggia la stagione di Prosecco e siamo invitati c'è uno scambio proprio questi tipi di festival come la Veninchi serve appunto per uno scambio anche di inviti perché poi sono le compagnie venete che ti invitano e di conseguenza inizia veramente uno scambio interessantissimo e anche faticoso in realtà perché poi sai fai una replica di solito è sempre tutto in un giorno è solito o sabato o domenica o sabato o domenica assolutamente perché lavoriamo tutti e dunque allora ricordatevi il 25 il 25esimo festival internazionale a Veninchi teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria che è in in svolgimento e soprattutto il 29 di dicembre al Politiama Rossetti se non mi sbaglio sì è un venerdì 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 29 dicembre alla sala assicurazione generale alle 20 e 30 questa serata di gala per beneficenza per l'ospedale infantile Burlo Garofalo nella quale potrete assistere allo spettacolo Zo Zo e soprattutto anche fare un'opera buona importante finire l'anno generosa allora grazie grazie a Paolo Dalfobo per essere stato con noi auguri cominciamo anche a fare augurio non sono molto bravo in queste cose ma insomma non ci vuole molto in fin dei conti per fare gli auguri e poi dopo noi ci vediamo come sempre più avanti grazie a tutti buona serata buonasera grazie a tutti 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 grazie a tutti